Il nostro impegno nelle malattie rare si focalizza prevalentemente sulla atrofia muscolare spinale, l'asma, una patologia rara che colpisce circa un uovo nato ogni 10.000 bimbi. Da sempre il nostro approccio è collaborazione e co-creazione nel mondo dell'asma con tutti gli attori che appartengono a questo mondo, siano essi i pazienti, i caregiver, le istituzioni e ovviamente i medici. Un esempio concreto di questo approccio è il progetto pilota per lo screening neonatale sulla atrofia muscolare spinale, un progetto che Biogen ha fortemente evoluto negli ultimi anni e che ha portato avanti con forza e determinazione. Circa quattro anni fa la storia naturale della patologia ha avuto una grossa novità, le evidenze scientifiche portavano a costanti miglioramenti nello scenario della vita di questi pazienti. Sappiamo che diagnosticare prima questa patologia, prendere in carico prima questi bambini ha un impatto reale sulla prognosi e sulla qualità di vita. Sulla base di queste evidenze scientifiche, dalla teoria alla pratica, abbiamo voluto proprio più implementare il primo progetto nazionale di screening neonatale per la SMA. Questo progetto è partito nel settembre del 2019, magistralmente condotto dal professor Francesco Dalino Diziano dell'Università Cattolica di Roma in collaborazione con le regioni Lazio e la regione Toscana. Ha visto la possibilità per più di 90.000 bambini di poter essere testati in maniera volontaria e assolutamente gratuita, con un'adesione delle famiglie superiore al 90%. Il progetto ha permesso di diagnosticare 15 nuovi bambini affetti da SMA in fase presintomatica, 15 nuovi bambini, 15 nuove famiglie che avranno la possibilità di poter accedere in maniera precoce alla terapia con uno sviluppo decisamente migliore dei bambini, un'aspettativa di vita che è paragonabile a quella dei loro coetanei sani. Il progetto prosegue senza soluzione di continuità, preso in carico dagli servizi sanitari regionali delle regioni Lazio e della regione Toscana. Sappiamo che anche il Ministero si sta adoperando per rendere questo, che è un progetto di sanità pubblica, un diritto per tutti i bambini nati sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regione e ci aspettiamo presto di avere delle novità in tal senso.